Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo insieme questa bellissima maglia del Milan, l'avrete riconosciuta, una maglia retro storica, del 2006-2007, la maglia di Kaka. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La maglia è veramente molto bella, è una maglia rosso-nera, quindi uno deve amare questi colori, però la rifinitura in oro, tutti i particolari che ci sono, tra l'altro che portano a memoria un giocatore grandissimo, secondo me fanno di questa maglia un pezzo da non perde. Il costo, l'avete visto, molto basso, le spese di spedizione, diciamo così, sono altrettanto basse e i tempi sono molto veloci. Tra l'altro in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora prima di lasciarvi la parte finale vi chiedo un grande like, dopodiché ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!